eccoci il crociera sul Duero la barca sta per partire sa levati i parapporti la barca sta per partire Aperti ... ... ... ... ... ... ... Would you like a glass of water? Thank you Two? Two, two yes Wash Thank you If you prefer to the beach as you can see from the front Oh, okay We're doing the way after this We're doing the way through this We're doing the way if you're going to get to the bottom of the water Ecco, gli oli dei vigneti del giugno. Il giugno del giugno del giugno del giugno. Il 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 giugno del giugno.